Divieto di eventi all'aperto fino al 31 dicembre, durata ridotta a sei mesi del Green Pass e l'obbligo in tutta Italia delle mascherine all'aperto e dell'uso di FFP2 ad eventi, spettacoli e sui mezzi di trasporto. Sono queste secondo quanto si apprende alcune delle misure esaminate nella cabina di regia sulle nuove misure di contrasto al Covid alla luce della variante Omicron che si è svolta a Palazzo Chigi. Ecco le nuove regole. Il Green Pass dovrebbe durare sei mesi dal primo febbraio, dunque passerà dagli attuali nove a sei mesi. Mascherina FFP2 in cinema, eventi, sport, mezzi di trasporto. Viene previsto l'obbligo di mascherine all'aperto anche in zona bianca e viene introdotto l'obbligo di FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi nonché sui mezzi di trasporto, anche TPL. Fino al 3 gennaio Super Green Pass, ristoranti anche al banco. Si prevede l'estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato, 2G solo per vaccinati e guariti alla ristorazione al chiuso anche al banco. Inoltre si vieta il consumo di cibi e bevande al chiuso in cinema, teatri e per eventi sportivi. Riduzione dei tempi per terza dose da 5 a 4 mesi. Con ordinanza del Ministro della Salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal comportamento del ciclo vaccinale primario. Si attende però sul punto un approfondimento tecnico che coinvolgerebbe anche l'AIFA. Lo si apprende da fonti di governo al termine della cabina di regia sul Covid. Fino al 31 gennaio sono vietati eventi e feste che implichino assembramenti all'aperto. È uno dei punti sui quali si sarebbe trovato un accordo nella cabina di regia anche con l'obiettivo di uniformare le misure in tutta Italia visto che alcune regioni e sindaci si erano già mossi in questa direzione. Prezzi calmierati per le mascherine FFP2. Il governo valuta l'introduzione di prezzi calmierati per le mascherine dopo l'introduzione dell'obbligo nei cinema, teatri, eventi sportivi e mezzi di trasporto. A quanto si apprende, la proposta sarebbe stata sostenuta da Forza Italia e Italia Viva che avrebbe chiesto di calmierare i prezzi, in particolare per gli studenti. Obbligo dei vaccini per la pubblica amministrazione. Il governo valuta l'introduzione dell'obbligo dei vaccini per la PIA. Lo si apprende da diverse fonti dell'esecutivo al termine della cabina di regia sul Covid. La valutazione sarebbe ancora in corso e una decisione sarà presa anche alla luce del confronto con le regioni. Per le feste e discoteche a Capodanno, terza dose o tampone. Per poter partecipare ad una festa in un locale o per andare a ballare, e in discoteca tra il 28 e il 31 dicembre bisognerà aver fatto la terza dose del vaccino oppure avere l'esito negativo di un tampone, se si è ancora in attesa del booster. Sarebbe questo l'orientamento emerso dalla cabina di regia sulla questione dei tamponi per i vaccinati, anche se una decisione definitiva, spiegano diverse fonti, sarà presa in Consiglio dei Ministri.